Siamo insieme a dottor Mirko Buono, dove qui fuori la sede del Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dei Servi, i ragazzi del laboratorio di GIS e Rilevo Tridimensionale sono impegnati nell'attività del laboratorio. Mirko, ci puoi spiegare cosa state facendo? Quello che stiamo facendo adesso è fare una prova di un sistema di documentazione sul campo che stiamo provando ad usare principalmente nello scavo degli allumieri di Monteleo. Si tratta di usare il rilevo tridimensionale tramite fotografie, quindi la tecnica di Image Based Modeling, come si chiama in termine, per fare la documentazione di tutte le US dello scavo. In questo caso stiamo registrando, battendo dei punti con la stazione totale e poi ora Giulio qua dietro sta spiegando ai ragazzi come scattare le fotografie in modo che poi successivamente il rilevo 3D venga preciso e venga utilizzabile. Quindi non soltanto stazione totale ma anche fotografie? Esattamente, principalmente fotografie, perché la tecnica si basa su un programma chiamato Photoscan che riesce a ricostruire un modello tridimensionale a partire da un set di fotografie. Perfetto, ringraziamo il dottor Mirko Buono. Dottor Mirko, può fare un saluto alla radio e ai nostri ascoltatori? Ciao a tutti e anche io una volta facevo parte di questo gruppo di ragazzuoli. Poi l'abbiamo cacciato. Grazie mille Mirko. Grazie a voi. Grazie a voi.